Salve a tutti ragazzi, io sono Menzo e benvenuti in questo nuovo video sul canale di Star Casino Gratis Siamo qui tornati con un nuovissimo episodio della carriera ad obiettivi con il nostro Empoli Prima di cominciare però come al solito ragazzi vi ricordo che in descrizione trovate il link per scaricare gratuitamente l'applicazione di Star Casino Gratis Mi raccomando fatelo perché è un'applicazione molto divertente Inoltre sempre in descrizione trovate il link per andarli a seguire su Instagram Non potete non seguirli su Instagram ragazzi Mi raccomando chiudo dicendo che vi dovete iscrivere al canale perché usciranno altri video miei, altri video di altri creators Quindi iscrivetevi per restare aggiornati su tutto quanto Noi signori eravamo rimasti qui alla fine di ottobre più o meno con la partita contro il Cremona e la partita contro il Trapani Proprio per chiudere il mese di ottobre Andremo avanti, simuleremo qualche partita perché mi vorrei giocare anche il Pescara Non so se riusciamo a finire novembre comunque andremo abbastanza spediti Attenzione ragazzi perché in queste partite dobbiamo cercare comunque di fare già qualche obiettivo Perché vi ricordo che adesso mettiamo da parte gli obiettivi di calcio mercato ma abbiamo gli obiettivi sia di formazione e crescita che quelli annuali da fare Dobbiamo cercare di non prendere gol, dobbiamo far segnare Cannavò, dobbiamo far crescere molti giocatori Quindi io direi di non perderci in chiacchiere e di andare a giocarci questa parte da contro il Cremona Allora, dato che dobbiamo far segnare il nostro caro amico Cannavò Che nello scorso video ha fatto il devasto Mettiamolo titolare dai Diamogli fiducia Sulla destra però perché tenere Birindelloz in panca Direi che possiamo andarci così ragazzi E dai Andiamo in campo sempre sul pezzo e ovviamente Forza Empoli Vi ricordo inoltre che l'inizio di campionato non è stato ottimo Poi per fortuna Negli scorsi episodi un pochettino ci siamo ripresi Dobbiamo cercare di vencere il campionato ragazzi E quindi non possiamo perdere troppi punti per strada Senna Zurkovski Prova ad andarsene lo fa molto bene Traoré Attenzione al movimento di Cannavò Che non viene servito ancora Traoré È costretto ad abbassarsi Dalle parti di Ricci Che entra in aria Ricci col destro Ricci Volpe in calcio d'angolo Prima occasione del match per l'Empoli Maglietta L'allarga per Ciciretti Attenzione Ciciretti Prova ad andarsene Entra in aria Se mette sul mancino Ciciretti Ancora nello stretto Ciciretti come se ne è andato bene Col destro Ancora Volpe Non ci posso credere Maglietta Dai Zurko Tilla Tira di fisico Zurko Mettila bene in mezzo Cannavò Ha segnato Kevin Ha segnato Kevin dal nulla Che palla in mezzo Spettacolare 1-0 Empoli Si perdono Cannavò Si perdono Cannavò E lui Sfrutto Mamma mia Zurkovski qua Bello potente questo cross Non era facilissimo Era molto defilato Però sai Non è detto Non è detto Ho visto gol Molto più semplici Non buttati nella porta Vero Cagliardini A quanti gol siamo Kevin? Perché dovevi segnarne 8 4 gol Siamo a metà Ragazzi Siamo a metà Traore Bella questa apertura per Ciciretti Attenzione Ciciretti Una finta Se ne va Ciciretti Ciciretti Doppio passo Entra in aria Ciciretti Col mancino Cosa stava per fare Ciciretti Attenzione a Bultam La mette in mezzo Gaspa Ottima uscita Migliore Bravo Biri Possiamo ripartire? Si 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 Con Birindelli Che accompagna l'azione Inserimento di Ciciretti Attenzione perché è in ottima Posizione Davanti al portiere Ciciretti Col mancino Finalmente Finalmente Ciciretti Al 27esimo Firma Il 2-0 Amato Ciciretti Lo abbiamo atteso Lo abbiamo atteso E finalmente segna Ottima Qua la palla Spettacolare Non può assolutamente sbagliare lì Da lì Col mancino Ciciretti Se non erro ragazzi Questo è il suo primo gol Vorrei dire una cavolata Ma È il suo primo gol Quindi finalmente Ciciretti Zoukowski C'è il taglio di nuovo di Cannavò Cremona Veramente messa malissimo In campo Oh ragazzi Comunque abbiamo trovato la quadra Abbiamo trovato assolutamente la quadra Senza dubbio l'abbiamo trovato Dopo un inizio a rilento Adesso Ce la giochiamo bene Finisco il primo tempo Con un Empoli spumezzante In totale controllo del campo Il risultato Lo sottolinea Possiamo proseguire così No Chiudiamoli Per favore Grazie Le può andare Ciciretti Attenzione È entrato frattesimo Al posto di Traore Ciciretti scambia con il suo avversario Poi con Cannavò Attenzione Ciciretti Fa tutto lui Cici Oddio è stanco Rosso E non so se è rigore ragazzi Rosso sicuro Beh ero davanti al portiere Rosso netto Rosso netto Ragazzi Sacro santo Per Matteo Bianchetti Non so onestamente se è rigore No Batte Ciciretti però Batte Ciciretti Da questa posizione si può fare Va Ciciretti Va Ciciretti 3 a 0 Così 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 Ciciretti Rivediamo Che punizia Morbida 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 La Insegnaci a battere le punizioni Cici Che spettacolo 3 a 0 Empoli Partita chiusa Finisce qua signori Altri tre punti Un punto per gol O un gol per punto In ogni caso Sono tre E si sale in classifica Ragazzoli Dai Sono molto contento Che Ciciretti Quest'oggi Cremona Assolutamente Inesistente Allora Moreo Mi chiede di giocare Un pochettino Più spesso Qua abbiamo Degli allenamenti Da fare Lo andrei a togliere A birindelli Per iniziare a darli A tutti quei giovani Che dovrebbero crescere Perché Se non ricordo male Ragazzi Devo far crescere Di più due Tutti i giovani Che hanno 21 anni Almeno E chiaramente Anche quelli acquistati Pinna Al momento Aveva Al momento In cui ho iniziato Aveva 21 anni A differenza di Serralta Quindi Pinna Andrebbe allenato Come andrebbe allenato Anche Per esempio By Rami Io inizierei ad allenare Un po' Pinna Perché se no La vedo dura Farlo crescere Di più due Contro il trapani Ragazzi Che è Diciottesimo Io lo andrei a simulare Ragazzi C'hanno 6 punti E questa è anche La formazione Che andrei a fare Ragazzi Ciciretti purtroppo È molto stanco Quindi non lo posso Far giocare Forza Forza raga Si può fare Si deve fare Si deve fare Come andrà Vinciamo 3 a 1 Sì Purtroppo prendiamo gol Ma vinciamo 3 a 1 Gol di Tutino E Mancuso Ottimo ragazzi Bene Concludiamo Ottobre Con queste due vittorie Cosa molto importante Adesso abbiamo La Spezia Abbiamo lo Spezia E come detto Abbiamo anche Il resoconto Andiamo a vedere Un po' Chi abbiamo Ma solamente Vedete che questo gallo Qui non è per niente male Questo portiere gallo Questo galletto qua Vedete che non è per niente male Questo facciamolo osservare Ancora un attimo Balcovec Mi chiede di giocare Se il titolare Esisti solo tu Come terzino Situazione in classifica Importante Ragazzi Perché battendo lo Spezia Andremo A più 3 Dallo Spezia E ci allontaniamo Comunque dalla quarta posizione Quindi Andiamo in campo Mettiamo Gasparini Al posto di Brignoli E andiamo in campo Così signore Sempre sul pezzo E forza Empoli Mancuso Scusate Scambia con Ciciretti Vi scuffetti Para ragazzi Ci potrà far meglio qua Sapete che Io volevo tirare Un bel Driven Shot Sul secondo palo E purtroppo Mi è uscita Sta brutta roba Peccato Sarebbe stato molto importante Sbloccarla subito Attenzione però Perché siamo ancora noi Con Balcovec Fino in fondo Balcovec La mette in mezzo Dove arriva ancora Cicire Non ci credo Non ci credo Cosa stava per fare Ma che bella azione Ragazzi Qua dell'Epoli Ricci Al centro c'è Mancuso Servito invece Frattesi Scuffetti Che parata Ok lo spezia Birindelli Che chiusura Non era mai fallo Quello Attenzione Galabinov C'è Nicolaus Su di lui Bravo Nico Poi il Gaspa Riesce ad allargarlo In qualche modo Dove c'è Balcovec Ma non era fallo Ragazzi Quello di Birindelli Balcovec In seguito da Ragusa Zurkovski Desce a far andare Tutino Attenzione perché In avanti ci sono Mancuso Tutino E anche Ciciretti Si passa poi Dalle parti di Zurkovski Che è rimasto Leggermente dietro La piazza Ancora Scuffetti Finisce con il primo tempo Un primo tempo divertente Che vede l'Empoli Leggermente In vantaggio Sul piano del gioco Però dobbiamo Sbloccarla E Ragazzi C'è Ricci che non ce la fa più Non ce la fa Assolutamente più Sposto leggermente Frattesi E metto Traoré Proviamo a dare questa scossa Anche Tutino E molto stanco Mettiamo Sottil Mancuso Attenzione L'inserimento proprio di Traoré Appena entrato Freschissimo Traoré Ma di quanto poco Ma di quanto poco Forza ragazzi Dai che ci mettiamo la vittoria Ciciretti Se ne va così Può scambiare con Mancuso Lo fa Ma poi Mancuso Decide di andare a Zurkovski Davanti a Scuffetti Piazzala Sì Sì Fuorigioco No Buone 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 Zurko Zurkovski 1-0 Empoli Meritatissimo Meritatissimo Anche all'inizio Del secondo tempo C'eravamo solamente noi in campo Buona la piazzata Fino ad adesso Solo Scuffetti Ci aveva fermato Finalmente Riusciamo a Metterla in porta Terzo gol In Serie B Per Zurkovski Davvero un ottimo giocatore Non sarebbe male Tenere la porta inviolata Anche Quest'oggi Ma che alla Ho detto Bravo Cici Mamma mia Quest'oggi Mi stai facendo Sgodichiare Moltissimo Vai fatela l'ultima corsa Che sei molto stanco L'ho visto L'ho visto Non ti preoccupare Vai Cici Vai Cici Una finta Salve sul mancino Attenzione Cici Retti E non so più Deve andare Niente Giochiamola Sottil Zurkovski Ancora Cici Una finta Mostruoso Cici Retti Si è sbloccato Definitivamente La firma così Questa partita Il 2 a 0 È tutto suo Era appartito forte Ma non mi aspettavo Assolutamente Un tiro a giro Del genere Spettacolare Quest'oggi Amato Cici Retti Che segna il suo Terzo gol Dai E dai Adesso lo togliamo Perché Se no mi decede in campo Fuori proprio lui Dentro Moreo Che mi ha piaciuto di giocare Si fa già due belle partitozze Una dietro l'altra Fiamozzi Bella Questa palla Questo inserimento di Mancuso Che può appoggiarsi dietro Dove arriva Traore Attenzione Traore Dello stretto Traore La chiude Finita 89esimo 3 a 0 Empoli Si Bravi ragazzi Anche oggi 3 gol Mamma mia raga Stiamo diventando devastanti Nello stretto qua Traore L'ho messo dentro apposta Per dare questo strappo Clamoroso Bravo 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 Quinto gol in campionato Ragazzi Mamma mia Traore E finisce qua signori Altre 3 punti Questa era una partita fondamentale E riusciamo a portarcela a casa Egreggiamente Bravi ragazzi Nuovamente Partita senza subire gol Questo mi fa assolutamente Molto piacere Allora Cannavo Sottile È cresciuto Sottile è cresciuto Però continuiamo così Dai Continuiamo con questi allenamenti Una F per pinna Che non ci sta E adesso Vediamo la vetta Ragazzi Perché siamo a 4 punti Dal frosinone Non abbiamo ancora Lo scontro diretto Fede del trasferimento Per Perrucchini Proprio il cremona Beh ragazzi Questa è l'azzetto Sono bei soldoni Oddio Bei soldoni È un parolone Però Sono soldi A questo punto Abbiamo il pordenone Io sinceramente In casa Visto comunque I risultati Che stiamo ottenendo Dopo abbiamo il pescare Ragazzi Andiamocela a simulare Questa Dai Andiamola a simulare Formazione Non ho mica fatta La formazione Scusami Allora Fammi vedere Allora Brignoli si è ripreso Molto bene Sulla sinistra Potremmo mettere Fiamma Oh mio Dio Possiamo pure tenere Balcovez Aveva voluto far giocar Moreo Ma Ciciretti è in formissima Quindi lo teniamo Ricci va fatto giocare Quindi niente ragazzi In realtà la formazione è questa Andiamo a simulare Forza Bravi ragazzi Bravi Doppietta di Mancuso Purtroppo si fa male Ferrari Questo non ci voleva Porca miseria Non Perrucchini venduto nel frattempo Così Dal nulla Cinque settimane Frattura al metatarso Ferrari Il nostro nuovo acquisto Si spacca così Starà fuori tantissimo tempo Porca miseria Porca Eh ragazzi Infortunio devo dire Che ci mette un pochettino Nei Oddio Si Un pochettino nei casini Ci mette Dobbiamo far giocare Nicolau Ci manca anche Un terzino sinistro Io vi dico la verità Metto Birindelli Sulla sinistra E sulla destra Faccio giocare Fiammozzi Che ogni volta che l'ho chiamato In causa Ha risposto senza dubbio presente Balcovez Purtroppo è In nazionale Contro il Pescara Faccio giocare il Gaspa Frattesi ce lo portiamo dietro Siamo pronti Formazione fatta Per la partita Contro il Pescara Ragazzi Eh Ma è che ci siamo Dobbiamo vincere Ragazzi Stiamo avvicinando La Frosinone Mamma mia Andiamo in campo signori La formazione L'avete vista Sempre Sul Prezzo Con questa magliettazza Il Pescara Andiamo E forza Eppoli Ma bravo Bojinov Veramente Oh Dammi questa palla Bojinov gioca nel Pescara Ma che mi stai di Occio Mamma Drudi Drudi Ho letto bene ragazzi Eh Partito forte questo Pescara Ecco Bettella State a vedere con Birindelli Bettella prova a prendere campo Ce la fa Birindelli prova a dare fastidio Bojinov E il Pescara in vantaggio Troppo larga la marcatura Su Bojinov I nostri avversari passano in vantaggio Bel gol Però Nicolau Troppo largo Troppo larga la marcatura Su Bojinov Porca miseria Eh Si vedeva Erano partiti molto forti Noi dobbiamo un attimo svegliarci Zurkovski Eccolo proprio Traore Che avanza Una finta La fa passare Zurkovski Bravissimo Entrenare Zurkovski Col mancino Alastra E poi Tutino Bettella ci mette il corpo Attenzione a Bojinov Col mancino La mette in mezzo E c'è il 2-0 Di Bettella Che stacco imperioso Ragazzi Che stacco imperioso Di Bettella Tanta roba Assist di Bojinov Gol di Bettella Guardate qua Pum Ancora Nicolau che non lo tiene Mancuso la larga Per Ricci Aspetta l'avanzata anche di Fiamozzi Che può giocare al centro dove c'è Traore Che non la controlla Ma poi la recupera Bravissimo Pescara messo in campo benissimo L'Empoli deve far girare molto bene il pallone Zurkovski Per Mancuso Al centro Arriva Ciciretti Che non riesce a tirare Del grosso Che diagonale Spettacolare Traore C'è il taglio di Mancuso Invece viene servito Zurkovski Che balla la palla per Birindelli Che spinge tantissimo Birindelli Birindelli Stava tirando ragazzi Pumnikolau Si fa valere Zurkovski Forza ragazzi Possiamo riaprirla Traore ancora Bruno No vabbè non ce credo Ok ancora Bozynov Io non so cosa sia Accaduto So che Zurkovski l'ha recuperata Dai che ripartiamo Con Ciciretti Niente Dai Dai ragazzi Dai Cicci Sì Sì È il momento di riaprirla È il momento di riaprirla Cicci È il momento di riaprirla Finisce con il primo tempo Il Pescara è avanti 2-0 Situazione strana ragazzi Perché non meritiamo assolutamente questo risultato Io metto anche Cannavo al posto di Mancuso Che oggi lo vedo un po' spento Non era proprio il momento di spegnersi Insomma ragazzi dai Loro ci hanno fatto due gol E noi possiamo farne due Anzi visto come stiamo giocando Potremmo farne pure tre E invece ce lo fanno loro ragazzi E invece ce lo fanno loro il terzo gol Oggi non stanno andando bene le cose Busellato Fa un gol clamoroso Un gol clamoroso Un gol clamoroso ragazzi Niente da fare E niente a questo punto Tolgo Ricci è un cambio particolare questo ma Ma non ce la fa più Non ce la fa più Non ce la fa più Pecchiato ragazzi Cannavo Bella questa palletta per Frattesi Che può correre Drudy non lo tiene Frattesi davanti dalla lastra Vi prego ragazzi Vi prego Partita riaperta Non lo so Al 63 La palla è uscita Ma ha fatto gol? Sì L'ha fatto gol? Sì però la palla è uscita ragazzi Però la palla è uscita Fa lo stesso Ce l'hanno dato Partita riaperta non credo Non credo Non credo ragazzi Forse un po' troppo tardi L'avessimo riaperta proprio prima con Ciciretti forse Però mai dire mai Vediamo un attimo Oh mio dio Oh mio dio Mi è caduta la spallina Frattesi Cannavo Fai andare Oh è buona E Frattesi è buona No Ero convinto che Frattesi Non fosse in fuori gioco ragazzi Va bene Ragazzi Purtroppo questa partita è andata Pescara Pescara davvero tanto forte Davvero tanto forte È una sconfitta che pesa questa Perché eravamo riusciti a staccare lo Spezia Adesso Adesso la situazione classifica è Piggiorata Però ragazzi La faccia di Ciciretti dice tutto Che vuoi fa? Che gli vuoi di? Sono stati bravi Cioè sono stati bravi ragazzi Sono stati bravi Bisogna fare anche i complimenti Agli avversari Io ragazzi direi che posso concludere qui L'episodio Abbiamo giocato Simulato Abbiamo visto delle belle azioni Sicuramente Ciciretti Protagonista Direi protagonista Perché ha fatto degli ottimi gol Poteva far meglio probabilmente In queste ultime azioni Con il Pescara Però Finalmente Ciciretti si è svegliato Vediamo un po' il programma Del prossimo video Allora Aspetta Questa qua col Venezia Siamo in casa però Questa qua è in casa Col Venezia Quasi quasi Potremmo andarla a simulare Ragazzuoli Cosa dite voi? Così poi Facciamo il punto Sulla situazione in classifica A seconda Di come va questa paleta Con il Venezia Vinceremo 3 a 1 Doppi Tali Ciciretti Sì Ma in simulazione Si vince solo 3 a 1 Mi pare giusto Ma che bel campionato Che bel campionato Ragazzi Ci sarà da sudare E nel prossimo episodio Chiuderemo novembre Con la paleta Contro il Perugia Io vi saluto ragazzi Sperando che questo video Vi sia piaciuto Mi raccomando Vi ricordo Di scaricare Gratuitamente L'applicazione Di Star Casino gratis Mi raccomando Anche iscrivetevi A questo canale youtube Per restare aggiornati Su tutti i video E seguite i ragazzi Di Star Casino gratis Su Instagram Mi raccomando Fatelo Tutti i link in descrizione Noi ci vediamo nel prossimo video Se non vi piace Un commento consiglio Alla prossima Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti